Dal 23 al 29 luglio Lido di Classe, sul litorale Ravennate, ospita l'undicesima edizione del Festival Nature, organizzato dall'Associazione Solaris con il patrocinio del Comune di Ravenna e la collaborazione di tanti soggetti diversi che operano sul territorio. Sette giorni all'insegna della natura con incontri, film, laboratori, escursioni, concerti e mostre che proseguiranno anche per tutto il mese di agosto. Siamo riusciti a stabilire questo bellissimo rapporto tra una serie di soggetti e di personaggi ed è, quindi si può definire, un festival che non è calato e non viene da fuori, ma è proprio, fa parte, mette in condivisione, in compartecipazione, tutta una serie di soggetti che vivono e lavorano direttamente lì nel territorio, al Lido di Classe. Il festival poi è un insieme di tematiche che si sviluppano a giorni fissi durante i due mesi di luglio-agosto. Tutti i lunedì si cammina, tutti i martedì si pedala in maniera soft, il giovedì si pedala invece in maniera più sostenuta perché si arriva attraverso la Pineta, addirittura fino a Ravenno, a Cervi, a Cesenatico. Tutti i giovedì mattina ci sono le faule per i bimbi all'interno di stabilimenti balneari, sto parlando sempre dei giovedì di luglio-agosto, e tutti i venerdì ci sono dei laboratori, anche questi ospitati da diverse attività. Gli alberghi prestano invece i loro spazi per delle mostre.